bene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di fortnite oggi siamo con gloria e cercheremo di fare una vittoria reale mi raccomando raga 10 like per questo video sabato sarò in live dalle 7 alle 10 mi raccomando e arriviamo a 100 iscritti dai chi vuole fare i profini per il team capare e scrivete nei commenti dove ci buttiamo rega al lago ok potevamo andare a bruciare ragazzi vuole fare le sfide 1v1 2v2 4v4 team contro team scrivete nei commenti e se non avete un team fate il provino per il mio si lo so a terra 1 per un attacco ma la di venire una scheda tranquillo c'è gente da me non ho modi sto vedendo però un assalto dov'è quello ho ucciso 1 vabbè dai arrivato io tanto prendo la scheda anzi no ancora gloria tanto aspetta io lo aspetta un attimo bro quanto quella gloria speriamo che la mia arriva una sniperata sto riscando un sacco vai a prendere la scheda io vado 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 io aspetta io dall'altra non lo cuore io ai cellini no io qui aspettalo da sta caso se no se trovo cd lì sicuro io vanno aiutare la sciglia di vieni con acqua ieri chiamato grazie gloria aspetta mi sembra che c'è gente sto andando a curare Ivan ok vai nooo è scarico eh vado a curare perciò occhio ma c'è gente senti i bassi occhio l'altro occhio l'altro faccio il video grande brava gloria mi servono ok trovo le bande non ti metto si è caricato no aspettiamo che si carica ecco ci regalo ha curato si è caricato si ti do io i colpi ce l'ho non ho quelli di pompa eh neanche io solo quelli mi mancano ma pure aspetta vediamo la c'è una mitraglietta blu dai dobbiamo solito prendere lui in quella casa sotto no 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 prenderlo tu e andiamo a prendere il barretto ecco ci rega io sono andata a pescare ho fatto due due flopper e davanti a me c'è gente dove andiamo andiamo ucciso ucciso stava notando boh non lo so perché stava entrando nell'acqua capito non te lo saprò vedere pampa singola blu cera ce l'ho io ce l'ho io siamo pure in safe buono raga andiamo a cercare gente ok andiamo a cercare gente dai eccoci raga c'è gente davanti a noi scuagliato gli ho fatto 66 a terra 1 raga la sotto sotto il cancello era il muro lì eliminato abbiamo sciolti cd 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 io non posso tenere niente ho due flopper che possono servire cd 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 qui cd 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 non fondi dotarare attenti agli altri calca cd ci ceno ho 76 di scudo che ce l'ha uno scildone io no ragazzi attenti che forse loro hanno il barret ragazzi venite da me bruciamo così se ho un meno scudone e me lo puoi portare te lo lancio e io mi sto avvicinando guarda c'è gente là rocco tu attenti ok si ritrovo passiamo passiamo lentamente alla prossima safe ragazza che mi fuggi legno potremmo passare non tanto ok esci Beppe ti prego ragazzi sono in safe venite venite anche voi venite dove sono io allora un team è per forza camperato in casa non stare così gli vanno a far abbandonare a questo raga pensiamo all'altro team che non lo vediamo se ci prendono da dietro siamo morti ragazzi che non lo vediamo da dietro mi vanno a far uscire a questo esci 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 dover dov'è l'altro team una a un è là e l'altro ragazzi ragazzi l'altro penso che è là 22 ragazzi aspettate che metto l'altro è là l'altro è là è là è là l'ho visto io ho visto uno si aspetta un attimo che fai in safe dov'è l'altro Rocco che mi stai riguardo eh raga fra poco ti devo andare a pushare fermi di spaccare no no tranquillo ho chiuso per la montagna ho chiuso per la montagna vediamo se c'è gente ok raga mi ricordo che c'è un altro team si è là faccio i miei tunnel dov'è la un è là e l'altro qui raga dove è il tunnel raga venite venite aspetta aspetta tanto tanto faccio il tunnel lì eh Rocco costruisce ben più avanti no raga fatti non morire non far più grande via qua ok posso entrerò qui eh sono qua squagliato quello là in acqua squagliato e dov'è one hit one hit eliminato grande tanto uno ha sciolto uno ha sciolto uno ha sciolto uno ha uno ha scioltissimo è scioltissimo è scioltissimo vuoi arrivare a bussare bussamo si bussiamo bussamo bussiamo che quello l'ho sciolto a terra a terra cucitola confermalo eh conferma che una parola confermate me la vuoi fare me la conferma Raga, davanti Mi hanno lascerato Eh, io mi devo curare Oh, andiamo a Rocco Ma perché provi l'acqua, dai Oh, mi sparano Eliminato No, non ho l'altro No, non ho l'altro No, non ho l'altro No, non ho l'altro Raga, non ho l'altro Non ho l'altro No, lascia lo scarico Lascia lo scarico e la donna come il miglior Eh, ce n'è uno qua da me Eh, ce n'è uno qua da me Uno alla serata, uno alla serata Non posso venire Sì, vittoria Bella Bella Infatti Torniamo la lobby, dai Quanti kill? Nove Per la prima partita, buono Zero Torniamo la lobby Zero, raga Zero kill Zero kill Eh, me la Mila compare Giochi dalla season 1 e non ho fatto moccano kill Prana Allora, gli ultimi 4 Io ho spiegato tutti questi dalla mitraglietta Per esempio il box A uno l'ho sciolto A parte, Gloria Mi ne ammaccato Ti ti rendi conto? Quello l'hai accettato però Gloria, mandagli il link, Gloria Sì Io l'ho messo il chilo Un punto Ok, non mi ricordo L'ultimo l'ho ammazzato io, giusto? E Eccoci, raga Il lobby Raga, se vi è piaciuto lasciate un like Per il prossimo video 10 like Eh, per oggi è tutto Ciao ciao Sabato è live, dalle 7 alle 10 Ciao ciao